Consiglio comunale speciale ieri a Riva del Garda. Il presidente del civico consesso, Mauro Pederzolli, ha diretto come il solito i lavori d'aula, nonostante si trattasse di una seduta molto speciale. Sindaci, assessori e consiglieri di maggioranza di opposizione, infatti, erano tutti alunni delle quinte A e B della scuola primaria Amelia Zadra dell'Istituto Comprensivo Riva 2. Le due sedute di Consiglio comunale sono l'atto conclusivo di un percorso durato qualche mese di educazione civica che, come ultimo argomento, prevedeva lo studio del comune. Dopo le lezioni teoriche, i ragazzi hanno incontrato in classe il presidente del Consiglio comunale che ha descritto loro il funzionamento del comune e il ruolo del sindaco, della giunta e del Consiglio comunale. In seguito, i ragazzi hanno eletto i sindaci delle due classi, la giunta e delle componenti di maggioranza e minoranza. Sindaco della quinta A è stato eletto Marco Fedrici, mentre quello della quinta B è Anastasia Tonelli.